Grazie Presidente, complimenti per le belle parole che ha usato per il suo discorso. Io ringrazio tutti per l'invito che avete rivolto a me come Ministro e come rappresentante di questo Governo. Mi scuso in anticipo se non potrò ascoltare tutte le relazioni, in particolare poi sarei molto interessata appunto alla parte scientifica che ho visto comunque dai numeri essere molto molto importante e mi preoccuperò comunque di poter visitare con calma, onestamente, con la giusta attenzione e col giusto tempo la vostra struttura. Quindi voglio ringraziare ovviamente anche e soprattutto la sua reverendissima eccellenza del Cardinale e se mi permettete vorrei anche salutare, perché non ho avuto la possibilità di conoscere, cioè far arrivare il mio saluto anche al Papa, al Papa Francesco, che spero di poter riconoscere il prima possibile e verso cui ho una grande personale stima e ammirazione. Io ovviamente non posso che esprimere un sentito ringraziamento, ho sentito che qui ci sono anche tanti dei vostri dipendenti, di coloro che poi concretamente lavorano per realizzare questi grandi obiettivi di cura e di salute. Per chi ovviamente svolge questa professione è un po' una missione sicuramente, questo ce lo possiamo dire, quando viene interpretata nello spirito migliore possibile. Ed è quello che io vorrei avvenisse in tutta la sanità italiana, fatemelo dire, che vive in alcuni momenti, in alcuni territori, c'è un profondo momento forse di crisi, ma le crisi vanno colte come delle occasioni di rinnovamento in realtà, quindi non bisogna sempre vedere l'aspetto necessariamente negativo, dobbiamo sempre anzi immaginare che tutti i problemi e le contraddizioni, gli ostacoli che ci troviamo davanti in realtà sono fatti proprio per essere superati, un po' come avviene nelle nostre vite, no? Cioè possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto a seconda di come vogliamo superare quel momento e quella fase. Io vengo da due giorni di visita in una regione che secondo me è una delle regioni che ha le più grandi difficoltà sanitarie e non solo perché sono state in Campania e lì veramente c'è una grandissima esigenza innanzitutto della presenza dello Stato, fatemi dire questo che sembrerà banale, però non lo è. I cittadini hanno bisogno di sapere che c'è uno Stato che fa il possibile come un genitore, magari non è il genitore migliore del mondo, non ha sempre i migliori mezzi e strumenti in quel momento da garantire ai propri figli, però comunque è presente, comunque ce la mette tutta e questo già secondo me è un segnale importante. È quello che in piccolo fate, se non proprio in piccolissimo, ma anzi in grande misura fate anche voi. E poi sicuramente ci bisogna poi di un impegno concreto, oltre alla presenza di un impegno concreto per aiutare anche i nostri concittadini che sono così vicini alla vostra regione eppure così lontani, fatemelo dire, per tanti diritti che purtroppo non vengono garantiti e questa è una cosa che non è bella onestamente, ti fa anche pensare e ti fa anche riflettere. Quindi io per questo sono arrivata direttamente dalla stazione di Napoli e non mi tratterrò ancora molto a lungo, in quanto purtroppo ho per fortuna tante cose da fare, quindi devo rientrare alle mie ordinariettività, però colgo l'occasione veramente per ringraziare delle bellissime parole che ho sentito, per fare i miei migliori in bocca al lupo alla cura di questi bimbi, di Angela e di Max e di tutti gli altri che voi vi prendete in cura e di ringraziarvi sentitamente per questo gesto di grande solidarietà, di grande interesse per gli esseri umani, in particolare per i più fragili in maniera ancora più speciale. Quindi ringrazio ancora Sua Eccellenza e ringrazio tutti voi per il grande lavoro che fate tutti i giorni. Grazie di cuore.